La partita per me è stata più interessante sotto l'aspetto combattivo che non sotto l'aspetto tecnico. La Juventus ha cominciato come se volesse, come se dovesse tutto travolgere ed effettivamente nei primi 20 minuti ha giocato lodevolmente. La superiorità è stata sua per tutta la prima metà tempo. È la ripresa che la Roma poteva dire la sua parola, dominando la Roma sempre puramente dal punto di vista territoriale, senza fare proprio nulla di eccezionale tecnicamente parlando. Bisogna tenere presente che la Juventus giocò effettivamente con 10 uomini, se non 9 e mezzo.